Bentornati a Radio Design, io sono Nicola Palumbo e qui con me c'è Paolo Bardelli, sempre qui presente. Questo è un grandissimo podcast, si chiama Storie Digitali, l'abbiamo scoperto da poche puntate. Oggi di cosa parliamo, Paolo? Parliamo di Digital Marketing e di... Eh, non ti si sente il microfono. Usa l'altro microfono, te lo dico io. Aspetta. Ecco, adesso va, benissimo, puoi continuare. Non va più, benissimo. Parliamo di Digital Marketing mentre tu cambi microfono, incredibile, gli imprevisti della diretta, perché ovviamente siamo in diretta su Facebook, questo video poi lo troverete anche su YouTube, lo vorrei ricordare, vi potete abbonare a questo podcast sia su Spreaker che su iTunes che su Spotify, quindi sostanzialmente ovunque nel luogo, diciamo su questo pianeta. Oggi parliamo di che cosa, Paolo? Parliamo di Digital Marketing e limiti da sfatare. E tu porti sfiga, perché se spegni il microfono è normale. Ci siamo ora? Adesso ci siamo. Ok. Porto sfiga. Porto sfiga, ma c'è anche un po' di disagio nello spegnere i microfoni selettivamente ogni volta. Ah, quindi anche questo lo abbiamo... Benissimo. L'abbiamo acceso e spento ripetutamente. Ok, di cosa parliamo? Andiamo velocemente. Sì, parliamo di Digital Marketing. E ok, si fa la svelta a dire Digital Marketing. Parliamo solo di Digital Marketing. Noi? Di Rifo o di Raffa sì, però parliamo soprattutto di ciò che viene detto a proposito del Digital Marketing. Noi amiamo le chiacchiere da bar e siamo proprio... Ci sguazziamo dentro. Siamo dei ignoranti del Digital Marketing e ci divertiamo a commentare certi miti insieme a voi. E ce ne sono cinque in particolare che sono stati evidenziati da un articolo molto interessante di Forbes che vi metteremo, tra l'altro vi linkeremo. Gli italiani chiamano Forbes. Forbes, eh, certamente. I cento, le classifiche di Forbes. Questa cosa l'ho sentita anche in DTG, tra l'altro è atroce. Ci sono comunque dei miti, delle leggende metropolitane, diciamo, che sono dure a morire in ambito di Digital Marketing. Alcune sono datate e altre non sono mai state vere. E se vogliamo iniziare ne abbiamo trovate cinque in particolare. Ne abbiamo trovate cinque. Partiamo con la prima, che è un mito che effettivamente bisogna sfatare. Cioè che hai bisogno di migliaia e migliaia di tool, di Martech, come vengono definiti più su Forbes, per to succeed in Digital Marketing. Che cosa vuol dire, Paolo? C'è questa strana convinzione che per ogni funzione, per ogni attività che deve essere portata avanti, o DSEM, o DEM, o SEO, o Social. Servano una miriade di tool. In realtà concentrarsi proprio sullo strumento diventa una cosa un po' asfittica. Soprattutto in un'epoca come questa, che fornisce tool gratuiti, che sono già all'altezza di tool professionali, quindi possono essere usati senza problemi. Mettere al centro del proprio percorso di marketing il tool è un po' miope. Bisognerebbe essere sempre concentrati sulla destinazione, sul dove si vuole arrivare. Devo dire la verità, io sono un grande ossessionato di tool digitali, però effettivamente alla fine si riducono in una manciata quelli che servono realmente, soprattutto perché spesso si perde più tempo a gestire i tool piuttosto che lavorare. Quindi bisognerebbe magari ridurre all'osso l'utilizzo di questi strumenti. Soprattutto quelli lì che fanno un sacco ridere, c'è tutta questa teoria gigantesca sulle mappe mentali, queste piattaforme che ti aiutano a ordinare le idee. Io direi facciamo e andiamo avanti. Anche le famose word cloud per creare queste infografiche con le parole. Ok, l'effetto è suggestivo, ma possiamo dire che era una cosa molto figa una decina d'anni fa. Cioè abbiamo già digerito quel tipo di comunicazione visiva. È bella, resta bella, però non è più strategica, secondo me. Non evidenzia più un dato ulteriore. È bella da vedere, ma non ci dice molto di più, perché quelle parole che sono ricorrenti, soprattutto nella tua comunicazione, le hai usate tu, quindi saprai grosso modo quello che hai detto. C'è anche una grandissima ossessione su un sacco di tool come le chat, ad esempio Slack. Slack, come no? Feticcio Slack. Slack è un feticcio dei marketer, diciamoci la vita, perché non ha ne più nemmeno di WhatsApp, probabilmente forse ti complica anche la vita perché comincia a switchare da un sistema di messaggistica o nato, comincia ad esaurirti ancora prima di lavorare. Sì, quando si vuole fare teamwork con Slack diventa un'esperienza schizofrenica, davvero. Sì, perché poi c'è la sotto chat, degli operativi, la chat, quelli che fanno una strategia. C'è quel progetto che poi non si sa perché Tizio non lo deve sapere perché lo voleva lui e allora bisogna fare un piccolo canale con solo tre persone che portano avanti quella cosa. Insomma, configurare le dinamiche dell'ufficio e portarle online e subirle per altre ore anche basta. Una seconda grandissima ossessione che fa parte non dei marketers ma dei clienti è quella che con il famoso word of mouth non c'è bisogno di digital marketing. Intanto spieghiamo Paolo cosa vuol dire word of mouth. Tradotto letteralmente è parola di bocca, tradotto nei termini da bar che sono a noi più cari è il passaparola. Quante volte ti è capitato un cliente che dice no ma la mia miglior pubblicità è il passaparola. Quante volte? Eh diciamo che l'ottanta per cento dei casi l'ottanta parola vince nella mente del cliente perché allora diciamoci la verità è fondamentale ma spesso la cosa va a braccetto o forse è successiva a una buona strategia di marketing. Nel senso che facciamo un caso anche classico tradizionale una piccola esercita un piccolo cliente che può essere un ristorante che può essere un bar che appunto viene da noi ci dice però con il passaparola io riesco a riempire il locale però la verità è che con una buona strategia di marketing tu puoi sfruttare questa cosa a tuo vantaggio e amplificare ancora di più quello che ti porterebbe il semplice passaparola. Come possiamo farlo ad esempio Paolo? Beh possiamo farlo non concependo lo spazio digitale e quello fisico come due cose distinte. Lo spazio digitale influenza quello fisico e quello fisico influenza quello digitale. per noi non perché siamo illuminati dal signore ma per noi è banale per praticaccia sappiamo che funziona così però limitiamoci a pensare al fatto che la buona reputazione di un ristorante prendendo il tuo esempio può essere tradotta in contenuti in strategie digitali perché se tu non riesci a indirizzare i buoni pareri che la clientela ha sul tuo conto in contenuti tu queste risorse le perdi e sono risorse gratuite che tu puoi ottimizzare i famosi user generated content i contenuti che poi diventano digitali partendo da un'esperienza fisica quindi pensiamo a recensioni post sui canali social taggare su instagram perché è così richiesto perché porta ad accrescere la propria comunicazione sui canali digitali che a sua volta alimenta la word of mouth quindi è un affare riuscire a far transitare il parere della clientela nel mondo digitale e viceversa esatto esatto è come portare i discorsi da bar nel mondo digitale e far continuare le persone a discutere di un determinato tema e amplificarlo nella piattaforma diciamo nel mondo digitale che ormai spesso si non solo affianca quello reale ma spesso prende il sopravvento diciamoci la verità soprattutto per le donne possiamo dire così possiamo è stato un po' maschilista un po' faccio così glisso mi muovo come un granchio e vado al terzo mito per evitare l'assalto delle donne se rimaniamo immobili non ci vedono se ti dico black links tu cosa pensi paolo penso a tante ore perse da parte di tanti che si occupano di seo e molti anche a comprare i link perché prima seo il posizionamento su google era basato su logiche organiche quindi se fai determinate cose verrai ripagato dalla grande g che ti ripagherà con un posizionamento in prima pagina g non è una cosa forno è vero è vero è vero è vero ma infatti in questo caso l'orgasmo è arrivare in prima pagina è bello mi è piaciuto a questa parallelismo molto bello convincente però qui purtroppo chi si occupa di seo in molti casi si nutre di miti e diventano eiacolatore precoce perché comunque ecco rimaniamo sempre in tema sì è vero forse siamo fissati no a parte gli scherzi i backlink tutti i link che sono in entrata su una data pagina danno reputazione questo non è una cosa che è finita non è che non sia vera in termini assoluti internet ricordiamolo è basato sul concetto di link però per avere un vero posizionamento serve prima di tutto spendere e questo toglietevi dalla testa l'idea di posizionarvi in prima pagina su google senza cacciare fuori una lira o col passaparola ecco il caro passaparola a meno che voi non proponiate un solo prodotto che quella parola chiave ce l'avete solo voi in tutto il mondo allora sì vi posizionate su google ma in altri casi la la miglior risorsa è diciamolo insieme content is king content is the king è verissimo spiegarlo anche proviamo a spiegarlo anche ai più profani di cosa stiamo parlando perché diamo un po per scontato ma diciamo la maggior parte della strategia dagli anni 90 in poi ma ancora oggi si basava spesso su troppi tecnicismi cioè prendo un sito ci comincio a lavorare sul codice comincio a creare dei link incoming link da referral esterni quindi da siti esterni che hanno un page rank che adesso non esiste più c'è una diciamo un valore più alto sul fattore g cioè google in modo da far salire un po il mio sito però la verità è che come viene spiegato anche in questo articolo che google sostanzialmente cambia algoritmo una volta l'anno lo fa in grande stile però ci sono tra i 500 e 600 micro modifiche annuali questo vuol dire che appoggiarsi ai tecnicismi spesso è la cosa sbagliata bisogna invece poggiarsi su una strategia seo che sia basato sul contenuto certo la cosa che serve alle persone e trovare un determinato contenuto quindi bisogna pensare più al contenuto piuttosto che come fregare google questo esatto e questo diciamo il mito che veleggia sempre da tempo procediamo con il quarto mito che richiama una parola che diciamo ancora prima dei social media riecheggiava nella bocca di tutti i marketers o coloro che bazzicavano la rete che è il blog il blogging e quindi il mito è blogging is just a hobby it's just a hobby blogging paolo no not at all e e vi spieghiamo perché ma anche se non crediamo che ce ne sia più bisogno però sempre bene sottolineare questo concetto pensare al blogging come l'attività di un ragazzotto sfigato che scrive i propri pensieri al computer usando wordpress e caricando delle immaginette brutte è un'idea molto datata in realtà il blog come strategia è una strategia che viene portata avanti da anche grandissimi brand che hanno in appoggio al proprio sito un canale per l'appunto il blog dove ci sono o pareri di alcuni esperti o uno spazio dedicato alla clientela oppure uno spazio secondo che riguarda alcune aree specifiche oppure si dà risposta per l'appunto ai clienti tu dicevi content is king ed è vero ed è qua che il cliente trova una risposta perché l'unico modo per dare per creare il famoso engagement è dare una risposta dare una risposta a un bisogno che il cliente ha e non si limita soltanto al prodotto per creare un contatto per l'appunto il canale blog è perfetto per sua definizione magari il concetto del sito a scorrimento dall'alto in basso può essere un po' datato da certi punti vista quindi immaginiamo blog come un sito dove l'ultimo articolo l'ultimo post va in evidenza va in alto e poi a calare in questo caso le risorse più datate finiscono in fondo diventano meno accessibili ma fa parte proprio della natura di questo strumento quindi essere colloquiale essere aggiornato e ben curato quindi no non è un hobby affatto non è affatto un hobby e lo dimostra il fatto che tutte le grandi agenzie di comunicazione che si occupano di seo quindi ottimizzazione google non ti vengono a parlare appunto di backlinks eccetera eccetera ma ti parlano soprattutto di posizionamento di contenuti se è andato a bazzicare per esempio blog che ne so di studio samo che magari sono appunto sempre piazzati sono sempre posizionati bene e strutturano il proprio blog in modo da rispondere in modo diciamo efficace alle esigenze di coloro che navigano in rete lo stesso accade per i blog aziendali o comunque per quelle poche aziende un po illuminate perché la verità è che mettere in piedi un blog aziendale ha dei costi soprattutto perché deve essere gestito da una persona che è competente che ha delle competenze trasversali che è un po giornalista un po esperto di seo sa come si muove il mercato come funziona google come come cosa cerca la gente sa fare un'analisi semantica quindi è abbastanza un casino e spesso ci sono ci lavorano più persone ci sono delle agenzie che ci lavorano però mi basta sapere che spesso il blog nella storia diciamo della rete è riuscita a generare milioni di profitti per le aziende che ci hanno creduto veramente quindi anche questo è un mito non è il blog non è una cosa per ragazzini come dicevi tu ma è una professione e secondo me tra le più difficili trovare uno che sappia scrivere e sappia fare blogging veramente parolesante pensate per esempio e chiudo la cosa a uno dei blog più famosi del che si chiama sei sicuro che è il uno dei blog grazie al quale salvatore esposito che un grande marco salvatore russo chiedo scusa è riuscito a trasformare diciamo a portare un blog nel mondo delle assicurazioni e diciamo incidere fortemente su quel mercato perché tramite questo blog che risponde a domande tipo sulle assicurazioni eccetera riesce a tramite affiliate marketing a generare milioni di utili quindi pensate quanto può essere potente un semplice blog come voi lo potreste immaginare in realtà non è una cazzata è una cosa estremamente potente avviene anche in Italia che è un piccolo mercato tra virgolette rispetto a quello anglosassone del mercato del mondo inglese diciamo in lingua inglese allora arriviamo all'ultimo mito prima di salutarvi per la cena perché siamo alle 8 e 12 mi piace questo lancio molto commerciale dell'orario anche se ci ascolta tutti in podcast in realtà però va bene così you must post several times a day to be successful on social media what does it mean paolo che devi rompere i coglioni in continuazione ai tuoi follower sui canali social bombardandoli di posto perché così li tieni allegati a te generi engagement ottieni più mi piace più commenti e tutte queste belle metriche che piacciono tantissimo al cliente ma che non spostano un euro no non è affatto vero anzi anzi si ottiene il risultato opposto tutte le strategie anche qui torniamo proprio ad un altro mito che sono basate cioè che vogliono insegnarti social basandosi su quali sono i migliori orari nei quali pubblicare oppure quanti post devo fare ecco quella roba lì cancellatela non stiamo dicendo che non si può più fare traffico organico che non è buona norma postare in certi orari invece che altri sappiamo sì alcuni orari portano migliori risultati perché ci sono più persone online ma diciamoci la verità portavano quando facebook aveva ancora le i cancelli aperti bravo allora spesso da me vengono i clienti mi fanno e ma che ora usciamo ma se usciamo con più poste poi si accavallano io però sono stanco di spiegare se non ci metti soldi non si accavalla un cazzo cioè non c'è niente che si accavalla non è come prima che la regola 4-5 anni fa era uscire con un post ogni tre ore perché se no a livello organico ti mangiavi adesso non cambia niente sì è normale uscire con tre poste in 5 minuti è da folli è normalissimo è da matti ma uscire con due poste nello stesso giorno a distanza di un'ora visto che comunque ci devi mettere il cash se no facebook né ora né mai ti farà vedere quel post a nessuno non cambia assolutamente niente a livello di strategia è normale che poi devi diluire i contenuti eccetera però il problema principale è che il cliente viene e ti dice eh ma quanti post mi garantisce al mese cioè questo non è un ragionamento non ha alcun senso perché se noi lavoriamo su un post che ha un valore immenso che può essere un video editato dai costi spropositati e allora c'è questa ossessione di eh sì però domani usciamo comunque con qualcosa pur di riempire ma non serve veramente un cazzo cioè niente bisogna ragionare su il contenuto non su la frequenza l'ossessione e ridiciamolo e diciamo di nuovo quindi questo è un altro grandissimo mito che assieme probabilmente quello del word of mouth non morirà mai perché la gente pensa che più rompi i coglioni più comprano e più cioè questa teoria degli anni 90 delle tv commerciali è abbastanza finita diciamo ma dura a morire nella testa di molti in effetti sì soprattutto con un pubblico un po' più adulto sì di una certa età sì però sono quelli che poi ci devono dare da lavorare spesso e volentieri quindi li salutiamo con affetto grazie a tutti i nostri clienti presenti passati a futuri posteremo mille volte tutte le volte che volete bene ho detto questi miti non riusciremo mai a sfatarli perché sono duri a morire forse quello che è stato più superato è questo del backlinks soprattutto sì direi di sì sono cose tecniche abbastanza tecniche ma anche questo come dei tool però gli altri tre sono veramente complessi beh sono miti duri a morire ma anche noi siamo duri a morire quindi continueremo anche noi a dire sempre la nostra die hard bene è stato veramente un sogno questa volta abbiamo pure una scenografia fantastica con il nostro bellissimo logo dell'istituto italiano design qui dietro di noi con questi tendaggi questi drappi ma adesso mi fermo una grande atmosfera sto esagerando abbiamo anche lo scaldino oggi veramente mi stavi emozionando beh lo so ti stavi emozionando adesso fermati prima che prenda il sopravvento al tuo lato animale paolo e salutiamo tutti quanti no no siamo etero non vi preoccupate alla prossima puntata di storie digitali